buongiorno da gabriele product expert mercedes benz merbag in questo video andremo a vedere come utilizzare l'assistenza al parcheggio della glc venite con me per scoprire tutte le caratteristiche il parcheggio automatico vi consentirà di parcheggiare la vostra vettura sia come in questa posizione quindi facendo una retromarcia al che il classico parcheggio a bordo strada quindi denominato as ora andremo a vedere una simulazione di questa tipologia di parcheggio eccoci ora a bordo di glc come potete vedere quando la vettura è in drive a bassa velocità avrete la spia del parcheggio sempre attiva una volta che noi andiamo ad oltrepassare il parcheggio in cui la vettura può andare a parcheggiare comparirà direttamente nel quadro strumenti la freccina in colore grigio di fianco al parking non dovete far altro che posizionare la leva del cambio in r e dare l'ok dalla razza del volante ovvero questo pulsantino qui sulla razza di sinistra per fare attivare il sistema di parcheggio adesso lasciando completamente i piedi dai comandi la vettura andrà a parcheggiare automaticamente nel parcheggio riconosciuto una volta che riconosce l'ostacolo vi comparirà l'indicazione inserire il drive andiamo a dare leggermente un colpetto di acceleratore per attivare il sistema e ora andiamo a mettere il rapporto r come potete vedere in questo caso la vettura ha parcheggiato tra un'auto e l'altra anche se il parcheggio era abbastanza stretto in questo modo possiamo andare a spegnere l'auto e in automatico avrete il freno a mano attivo e la vettura bloccata vi ricordo infine che la modalità di parcheggio permette alla vettura di parcheggiare sia nel modo che abbiamo visto precedentemente che anche quello classico a bordo strada quindi il classico parcheggio AS non mi resta altro che salutarvi e vi auguro una buona giornata ciao